domandone pelle o tessuto so già che si scatenerà l'inferno nei commenti anzi scatenatevi però di fatto quello che seguirà lo sottolineo è frutto di dati oggettivi e un po della mia esperienza quindi non è da prendere alla lettera di fatto forse gli animalisti saranno un po contenti comunque i sedili in pelle hanno un elenco di pregi esagerato e due macro difetti che però secondo me annullano totalmente questo elenco i pregi la pelle è più resistente se nutrita poi col tempo l'usura si nota meno dura più negli anni è più bella c'è un abitacolo con un interno di un colore giusto magari abbinato con criterio alla colore della carrozzeria esterna rendono l'auto più elegante più lussuosa più più tutto insomma soprattutto magari sulle sportive con interni in pelle bicolore il cruscotto in pelle tanti dettagli di carrozzeria che riprendono magari insomma è meglio è più fico l'interno in pelle è anche un pochino più igienico volete mettere la pulizia di un interno in pelle rispetto al tessuto che magari assorbe la polvere e quant'altro quindi ci possono essere varie situazioni che suggeriscono l'interno in pelle per esempio se trasportate animali famiglia con bambini piccoli o perché noi tassisti tantissime auto utilizzate dai taxi di base magari hanno il tessuto e cosa fanno loro non appena l'acquistano ricoprono i sedili con la pelle uno perché sono più belli da vedere appaiono sempre più puliti hanno bisogno di meno manutenzione due perché quando magari devono vendere il taxi tolgono questa copertura e l'interno in tessuto voilà è come nuovo quindi assolutamente un'idea geniale ma proprio perché la pelle si presta a un utilizzo un pochino più esasperato e poi anche l'odore della pelle in alcuni casi si tratta di pelle bufala o comunque pelle morbida di alta qualità proprio all'olfatto è gradevole potrei raccontarvi ancora qualche pregio ma ho più che altro voglia di parlarvi dei due macro difetti della pelle se chiaramente l'auto la utilizzate uno è il prezzo un interno in pelle costa sempre di più del pari grado in tessuto o chiaramente se acquistate un'auto nuova che nell'allestimento che state comprando ha incluso un interno in pelle comunque c'è un sovrapprezzo per l'allestimento in sé ma più che altro il difetto più grande dell'interno in pelle è l'escursione termica la capacità incredibile della pelle di essere gelida d'inverno quando vorreste magari un pochino più di calore quando salite su un'auto parcheggiata fuori per mezza giornata un'ora due ore che fuori davvero freddo sembra di sedersi sul ghiaccio se avete sedili riscaldabili bene attivati subito a stecca altrimenti d'estate invece non ci si può neanche salire cioè voi avete fretta ok bisogna accendere il climatizzatore in auto anzi a 12 gradi ibernarvi voi per far raffreddare l'abitacolo e auspicabilmente anche un po i sedili quindi no questi dicono me sono il prezzo ancora ancora perché sull'usato ma a livello utilitaristico il caldo estremo d'estate il freddo d'inverno mi fanno riflettere e sul tessuto che diciamocelo è quello che sceglierei pregi difetti sono invertiti cioè ci sono apparentemente molti più difetti e pochi pregi che comunque mi fanno preferire appunto il tessuto e il pregio è che la temperatura all'interno dell'abitacolo può essere calda fredda eccetera e comunque loro mitigano cioè il tessuto d'inverno è comunque sopportabile nel suo freddo ed estate è sicuramente infinitamente meglio di un interno in pelle a parità di condizioni di temperatura e sempre parlando di pregio ovviamente il tessuto costa meno cioè di solito è il primo equipaggiamento dell'auto ci possono essere optional come tessuti lavabili tessuti più colorati tessuti con finiture un pochino più come dire di qualità elevata però non sarà mai come il prezzo della stessa auto con l'interno in pelle che costerà ovviamente di più come anticipato i difetti almeno secondo me sono di più nel senso che un tessuto è meno appariscente quindi dona l'abitacolo un'immagine un pochino più economica sicuramente si logora con più facilità perché anche se voi siete attenti ci sono tessuti che mostrano di più il peso degli anni e quando un tessuto si strappa è davvero più complesso ripararlo in maniera così perfetta come in realtà può avvenire con un interno in pelle e poi l'igiene la pelle è più facile da tenere pulita igienizzata mentre il tessuto assorbe ho da poco acquistato un'auto io l'ho fatta igienizzare da due ragazzi molto bravi di quarto inferiore è un'operazione abbastanza costosa ma su un'auto che ha 20 anni ad esempio per me è fondamentale e lì vi rendete conto di quanto quanto i tessuti assorbano lo sporco come dicevo all'inizio è una mia preferenza se una macchina deve essere da collezione oppure state acquistando una sportiva ovviamente l'interno in pelle è preferibile mentre a livello utilitaristico per tutti i giorni il tessuto secondo me è meglio e poi ci sono comunque delle alternative molto molto interessanti che si posizionano a metà strada e che assolutamente vanno considerate come l'ecopelle oppure il misto pelle tessuto alcantara pelle ecco quando il sedile è composto da tessuto al centro cioè dove poggiano le gambe e la schiena e da pelle magari sui fianchetti penso che sia un mix assolutamente valido sia a livello estetico che un compromesso anche in fatto di temperatura come ci siamo appena detti e per chi come me preferisce ad esempio interno in tessuto ma a famiglia quindi bambini piccoli oppure animali cani gatti eccetera eccetera oppure hobby ingombranti e che tendono a sporcare l'abitacolo si può sempre coprire quelle porzioni d'abitacolo con optional aftermarket fatti apposta per rispettare i tessuti dei vostri sedili se mi sono perso qualcosa scrivetelo nei commenti altrimenti ciao